Io credo che Leopold sia da sempre uno spazio di confronto libero in cui non ci sono solamente i rappresentanti del Partito Democratico sicuramente simpatizzanti, ma tanta società civile che riscopre il piacere di rincontrarsi, di discutere, di ascoltare giovani professionisti, esponenti della ricerca e dell'università nel fare analisi, ma anche nel proporre idee e soprattutto soluzioni possibili per un futuro dell'Italia, quindi una bellissima esperienza e una modalità di confronto molto fresca, giovane, che ha incontrato in questo caso l'interesse di decine di migliaia di persone, perché io non ho mai visto un'edizione così partecipata come quella attuale. C'era lei, c'era Polese, cosa portate, quale cambiamento anzi portate giù in Basilicata? Intanto credo che, ripeto, è stato un momento importantissimo di ascolto e sicuramente per l'idea di ripartire con la consapevolezza che sicuramente errori anche ci sono stati, ma con la convinzione che l'unica modalità per respingere i populisti che in questo momento ci governano è quello di ripartire dal Paese, da un'idea di Paese riformista, in grado di riprendere anche alcune buone esperienze che sono state frutto e hanno caratterizzato le decisioni del governo del passato e del recente passato che credo che corrette e migliorate possano rappresentare ancora la sfida da vincere per il futuro dell'Italia. Assessore, lei è un uomo di fatto, quindi non ci giriamo intorno alle parole pure bellissime. Come traducete in Basilicata tutto questo, partendo da un PD che deve ancora trovare la sua strada, un PD lucano ovviamente che deve trovare la sua strada e in vista, perché no, di una strada anche molto breve da percorrere verso le elezioni regionali? Io penso che il modello della Leopolda di fatto possa essere un modello mutuabile della nostra regione, qui c'era una società civile, non c'era solamente il PD, quindi c'è gente che con il PD non c'entra niente, ma che ha interesse, che ha nell'anima e nel cuore l'interesse del Paese, quindi questo modello di politica fatta di fatti, fatta di risultati, fatta di progettualità, di visione in questa direzione è un modello che era l'Aleopolda e che cosa si possa recuperare in Basilicata, questo è il modello che dobbiamo recuperare e se a guidare questi processi c'è qualcuno che l'interpreta nel milione dei modi possibili, bisogna ricercarlo e puntare su di lui, questo è il punto, quindi una grande connessione con la società civile e soprattutto cercare in Basilicata un campo largo al quale offrire una proposta di governo per il futuro della nostra regione, credo che questa sia l'esperienza che anche oggi abbiamo avuto conferma che è una direzione di una strada giusta, l'apertura dell'apertura dei comitati civici fatta oggi alla Leopolda è esattamente la materializzazione di quel tentativo di riconnettere il nostro modo di fare politica alla società che va oltre l'appartenenza ai partiti, ma che si riflette sui problemi che vivono le persone, che è la carne di vedere le persone e che si è capace però di interpretarle e costruire una proposta di progetto di futuro. Che vi siete detti, Compolese? Aprite anche dei comitati civici subito in Basilicata per attualizzare tutto quello che mi diceva? Io sono, diciamo, da tempo siamo al lavoro per costruire con associazioni, professionisti, mondo della ricerca, modalità di dialogo continuo, questo lo facciamo continuamente ormai da tempo e penso che in molte occasioni ne abbiamo dato dimostrazione. L'idea di far partire una rete di comitati civici anche nella nostra regione sia assolutamente un impegno da prendere, prendiamo e faremo perché questo credo che sia una strada corretta, giusta. Poi questa però deve uscire fuori dalla logica dell'appartenenza del PD, ma deve essere un modello di coinvolgimento della società, non è una proposta del PD, è una proposta che magari esponenti anche del PD potrebbero in qualche modo rendersi partecipi e protagonisti, ma che deve fondamentalmente rivolgersi all'assassinato tutto. Insomma, si va verso una sinistra laica anche da voi? Io credo che questo sia l'obiettivo che da tempo stiamo cercando di praticare. Io credo che una sinistra che vuole governare, un centro-sinistra che vuole governare un paese, una regione, una comunità, deve guardare i problemi in maniera differente, in maniera sicuramente ideologica per quello che può essere reprise come ideologia, ma essere pragmatica e soprattutto risolvere i problemi che ha chiesto ancora la comunità a partire dal lavoro. Per chiudere, il passo di lato che Pistella vi ha annunciato di voler fare, quanto aiuta a questo processo qui faceva riferimento di cambiamento radicale? Io penso che il senso della nota del Presidente Ussente, di Marcello Pistella, sia in linea con questa aspettativa. Tocca a tutti noi tradurla anche in una disponibilità, che deve far partire un confronto immediato tra quei colleghi del Pt, ma non solo, tra gli alleati, ma anche solo con la società, perché dobbiamo presto individuare una soluzione ideale per guidare questa regione in un futuro che ormai è già cominciato e per il quale dobbiamo attrezzarci nel migliore dei punti possibile, la competizione alle porte e credo che quel passaggio è un passaggio sicuramente importantissimo, ma non possiamo non ripartire anche da un coinvolgimento del Presidente stesso che è fondamentale per costruire una perspectiva anche in Basilicata.